Si chiama Boryam Ghafuri, è un cacciatore dell'Iran iraniano e pensate che sarebbe stato bloccato o meno arrestato. L'autorità dell'Iran infatti l'avrebbe portato in reclusione perché avrebbe insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e avrebbe fatto propaganda proprio contro lo Stato. Ovviamente tutti ne stanno parlando ultimamente, soprattutto nel mondo medio orientale, ma anche nel nostro paese, l'Italia, attraverso Stramaccioni, il quale Stramaccioni ha reggetto solo un scioccato. Ho parlato con un amico da Tehran, Ghafuri sarebbe stato arrestato davanti al figlio di 10 anni di età e la moglie è molto preoccupata. Insomma, Stramaccioni è molto preoccupato per la situazione in questione, visto che è considerato che l'uomo sarebbe stato bloccato praticamente in presenza dell'amato figlio di solo 10 anni di età. E questo è un fatto gravissimo. Ghafuri ha giocato, vi ricordo, in nazionale italiana, iraniana, ma attualmente non è impegnato nei mondiali in Qatar. Non si sa per quale motivo. Forse proprio per questo motivo qua, non si sa. Ai posti, l'anno da sentenza. Iscrivetevi a casa in rato italiano, commentate. Un caro saluto a voi tutti, ciao a tutti.